Bentornato! Oggi voglio affrontare con te un tema che ritengo veramente molto molto importante Come le nostre convinzioni possono influenzare la nostra vita e quanto ci costano Come hai potuto capire dai miei video precedenti, per me è fondamentale lavorare sulle nostre convinzioni Anche se molto spesso non ne siamo consapevoli, le nostre idee, le nostre credenze Influenzano enormemente il nostro stato emotivo ma anche i nostri comportamenti Molto spesso non agiamo o soffriamo a causa di idee e credenze che abbiamo dentro di noi Se vogliamo migliorare il nostro stato emotivo, se vogliamo bloccarci da situazioni critiche È fondamentale partire dalle nostre convinzioni All'idea di cambiare pensieri, di cambiare convinzioni e credenze Molte persone alzano una grande barriera, quella che è chiamata resistenza Nonostante la consapevolezza di soffrire, le persone hanno difficoltà a cambiare il proprio modo di pensare Oggi voglio illustrarti una strategia che uso e che aiuta tantissime persone a cambiare il proprio modo di pensare e le proprie idee Per cambiare le nostre idee è fondamentale capire, comprendere quanto queste ci costano Molto spesso non siamo consapevoli che il nostro modo di pensare ha un vero e proprio costo nella vita reale Sul piano della sofferenza ma sul piano anche delle nostre decisioni quotidiane Se impariamo a comprendere quanto costano queste convinzioni, queste idee Riusciremo più facilmente a sbloccarci L'esercizio che ti propongo si basa su tre semplicissime domande Ma prima di fartela ti consiglio di visualizzare dentro di te la convinzione che oggi ti sta limitando particolarmente Così partiremo da subito con il lavorare sulle tue convinzioni limitanti La prima domanda che voglio porti è quanto ti è costata questa convinzione in passato? Quanto questa convinzione è costata ai tuoi familiari, ai tuoi cari? Cerca di individuare situazioni specifiche nelle quali hai sofferto a causa di questa convinzione Cerca di essere il più dettagliato possibile Di individuare la situazione ma anche l'emozione negativa che hai provato Più riuscirai a riconoscere nello specifico la situazione e l'emozione E più col tempo ti sarà facile cambiare la credenza La seconda domanda che voglio porti è quanto ti sta costando oggi la tua convinzione? Quanto sta costando i tuoi cari e i tuoi familiari? Anche in questo caso cerca di individuare situazioni specifiche Evita di parlare in generale di situazioni come nelle relazioni oppure nel lavoro Ma individua situazioni pratiche specifiche Cerca anche di capire qual è l'emozione che oggi ti sta facendo soffrire Così riuscirai ad avere un quadro di quanto oggi la credenza ti sta limitando La terza domanda invece è quanto ti farà soffrire in futuro? Pensa tra 3, 5, 10 anni quanto potrà limitarti questa convinzione? Quanto potrà far soffrire te o i tuoi cari? Proiettandoti nel futuro riuscirai pian piano a prendere consapevolezza Di quanto potrà costarti continuare a mantenere dentro di te questa credenza, questa idea Anche in questo caso cerca di visualizzare le emozioni negative Cerca anche di provarle oggi Questo ti farà comprendere come nell'arco del tempo La stessa convinzione sta veramente creando tantissime emozioni negative Molto spesso infatti quando pensiamo al futuro lo vediamo come un tempo indefinito E proprio questo atteggiamento nei confronti del futuro ci impedisce di attuare il cambiamento oggi Invece cerca di comprendere quali conseguenze avrà la convinzione, la credenza su cui stai lavorando adesso Cerca di sentire ed immaginare le emozioni negative che proverai Facendo un percorso storico di come la convinzione ti ha fatto soffrire, ti sta limitando e ti farà soffrire Riuscirai a trovare la giusta motivazione per cambiarla Negli altri video che trovi sul mio canale YouTube scoprirai tante strategie per cambiare il tuo pensiero e le tue convinzioni Spero che questo video ti abbia dato uno spunto verso il cambiamento, verso la crescita personale Se il video ti è piaciuto mi farebbe piacere che tu lo esprimessi con un like Se hai delle domande come sempre le puoi porre nello spazio dedicato ai commenti E ci vediamo la prossima volta nel prossimo video